Comunque, tutto quello che abbiamo fatto adesso, magari ripeto solo le parti, c'è fattore, ecco. Allora, magari ecco, giusto così per la registrazione, ripeto di nuovo il procedimento che abbiamo visto prima, così rimane per i posteri, ok? E ripeto anche quelle cose interessanti che vi stavo dicendo. Quindi facciamo, partiamo dal file nuovo, quindi andiamo, qui facciamo, cancelliamo il cubo, facciamo Shift A e inseriamo un cilindro. Cilindro, lo mettiamo otto vertici, ma questo diciamo è un po' quello che abbiamo visto in tutte le nostre, i video che vi ho fatto, quindi sono delle ripetizioni. Premo, per ulteriore conferma, non ce l'ho più qualcosa, aspetta, così, no, non ho i testi premuti. I testi premuti vi servono proprio a vederli, i testi premuti, mentre lo dico io pronuncio i testi che premo. O volete vedere il mouse qua che lo, che compare. Tu lo preferisci. E solo che purtroppo quei, 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 cosi del, screen, hanno tolto. La versione che faceva questo mestiere, ecco questo qui. Quindi bisogna mettercelo, bisogna trovarsi questo plugin su internet che si chiama SpaceView. e poi aspettate che devo abilitarlo, perché qui installo la versione e mi perdo. Quindi installiamo, preferenza utente, addons. Un semplice caso ce l'avevo già e l'avevo perso. Ah sì, ce l'avevo già, quindi devo solo abilitarlo. Ok, salvo impostazioni, start display. Facciamo un po' più grosso. Ok, quindi adesso abbiamo anche i testi premuti. Tassi premuti finora, vabbè, facciamo di nuovo tutto da capo. Quindi, intanto abbiamo fatto ancora poco. Cilindro, 8. Poi siamo andati in 5. In avanti, ctrl shift z, quindi se voi fate ctrl z, tanto per dire, se qua avete fatto così, fate ctrl z, torna indietro. Ctrl shift z, ritorna, arriva avanti. Si usa il ctrl shift. Bene. Stavo dicendo, lo vediamo di così. E poi abbiamo detto s z e lo facciamo diventare un pochino snello. Poi andiamo in modifica e poi facciamo il ctrl r, in cui aggiungiamo i vari cerchi, anelli. Una volta terminato, facciamo il procedimento con cui inseriamo i materiali. Quindi allarghiamo qua, giusto per vedere questi affari qua. facciamo magari un alt tasto destro e facciamo qualche S. giusto per vedere, insomma, qualche cosa di strano, di stranino. E poi proviamo a colorare, ricolorare, come vi ho fatto prima. Quindi andiamo nella finestra del materiale. e qui abbiamo in alto tutti i materiali associati al nostro oggetto e qui in basso abbiamo potenzialmente tutti i materiali della scena. Non confondiamo le due cose, nel senso che possono essercene 300, ma invece in un pedone può usarne soltanto due. Oppure può riciclare dei materiali fatti per altri pezzi della scena. Questo il concetto è il riciclo che si usa in Blender. Quindi qui abbiamo detto che per colorare dobbiamo avere almeno due materiali. per dire, dobbiamo avere un materiale nuovo che chiamiamo ad esempio rosso e lo facciamo tipo rosso. Ecco, vedete che quando metto il primo materiale lui colora tutto l'oggetto con quel materiale, l'ho detto prima. Se invece aggiungiamo un altro materiale nuovo qua e qui gli mettiamo giallo, come abbiamo visto prima, nel diffuso, giallino questo. Il giallo è un po' sporco, ma c'è. Allora, vedete che non c'è niente di colorato di giallo, quindi per selezionare dobbiamo andare sul nostro oggetto e scegliere le cose da fare di quel colore. A questo punto torniamo alle cose che vi dicevo prima. Possiamo selezionare un pezzo del nostro oggetto. magari ecco con Z possiamo selezionare ai raggi X e quindi con B possiamo selezionare tutta questa parte di sopra e per dire questa parte di sopra la vogliamo far diventare gialla. Basta semplicemente dire assegna e quella diventa gialla. Quando siete in modalità ai raggi X in realtà non lo vedete, ma se tornate, togliete con Z i raggi X, vedete che è diventato quel giallo lì. Quindi è il... Ah, in realtà avevo selezionato anche la faccia di sotto, quindi mi ha fatto giallo anche la parte di sotto. Se la parte di sotto la volessi far tornare rossa, basta che io la seleziono solo lei e poi clicco rosso e faccio assegna e vedete che torna. Stessa cosa se voglio soltanto questa faccia diventare rossa, clicco rosso, assegna e soltanto quella faccia diventa rossa. Se clicco qua e questa la voglio fare gialla, faccio assegna e ottengo gialla. E' un po' il meccanismo che vi avevo insegnato per fare la scacchiera, vi ricordate? La scacchiera era fatta bianca o nera a seconda di come erano selezionati i pezzi. Quindi praticamente erano... Per dire, io posso anche selezionare... Ecco, se volessimo fare qui la selezione che abbiamo fatto fra la scacchiera, possiamo prendere tutti i pezzi e selezionare, assegnarli al rosso. E poi abbiamo la scacchiera, abbiamo fatto la deselezione a scacchiera e poi i pezzi che sono rimasti selezionati li assegniamo gialli, quindi otteniamo una selezione che lui fa il possibile, perché in realtà in questa condizione non potrebbe farlo perfettamente a scacchiera, però cerca di fare una selezione uno sì o uno no, insomma. Un po' ci provo. Poi eventualmente lo potete aggiustare voi a mano, nel senso questo fate diventare rosso, eccetera, eccetera. Stiamo parlando dei modi di selezionare, no? Quindi con Z abbiamo detto che si va in raggi X, però c'è un altro modo che forse non abbiamo mai visto di selezionare, anche i vertici non visibili, che è questo. Cioè se si preme questo tastino qua, allora a questo punto la selezione B seleziona ai raggi X sostanzialmente, però il vantaggio è che vedo ancora i colori, no? Quindi se io faccio questa selezione con B, dunque devo selezionare i vertici, B, vedete che mi ha selezionato anche dietro in realtà, mi ha selezionato, aspetta, facciamo A, facciamo B, facciamo così, ok. Mi ha selezionato anche i vertici dietro. Quindi le alternative sono tante, quindi in Blender le stesse cose si possono fare con modalità anche abbastanza diverse, e usando questo sistema. Quindi se questo tasto è illuminato, allora, no? Il tasto proporzionale è quest'altro qua alla destra, sono tanti tasti. Il tasto proporzionale, adesso vi farò vedere un attimo fra un po' con le cose che fa, voi ci farò vedere, ma lo ripetiamo, e in più magari introduciamo anche la selezione a pennello, a cerchio, no? che era quella che dicevo, nel senso che vi ho fatto vedere prima, se io premo C, mi compare una sorta di pennello, appunto, la dimensione di questo pennello, se muovo la rotellina del mouse, cambia, quindi il pennello può essere più o meno spesso. Quindi se lo tengo molto largo, mi spennella. L'attenzione è che non è che colori questo, seleziona soltanto. E quando avete finito fate invio, e lui ha selezionato le cose. Visto che ho premuto questo tasto, e quindi è rimasto grigio, quindi quando questo è grigio, vuol dire che si selezionano anche i vertici. E che... Ok. E quindi questo possiamo colorarlo rosso, assegna. E quindi... In realtà ce ne sono anche altre di modalità di selezione, che... Non so, non ricordo come si attivava la selezione. Tra l'altro molte di queste si... Ah, vedete? C'è B e la selezione rettangolare, C e la selezione circolare. Ok. Se vuoi rispondo alla domanda. Quindi qui ho creato questo oggetto qua, poi volevo crearne un altro, e per errore in realtà faccio Shift A e aggiungo un cubo. Vedete che mi ha messo lì. E questo cubo in realtà, in questo momento, risulta collegato all'altro, no? Quindi cosa vuol dire che è collegato? Vuol dire che se muovo questo, si muove anche il cubo, no? Ci muovono tutti, perché sono considerati un tutt'uno. Allora, se volete separarlo, dovete innanzitutto selezionare tutti gli oggetti collegati, quindi la famosa L, di cui qualcuno diceva, con L tu selezioni. Ma non è ancora staccato. Per staccare devi ancora fare P, come dice qualcuno, e poi fare P, selezione. A quel punto tu hai due oggetti diversi. uno oggetto. Come l'ha fatto? Ah, perché erano selezionati tutti e due. Ok. Credo. questo è un oggetto e questo è l'altro oggetto. Ecco, tra parentesi, qui c'è anche uno di quei fenomeni che a volte vi capitano, di avere un oggetto con il centro scentrato. Non so se vi capita. Allora, quando un oggetto è scentrato rispetto al centro, e questo capita quando fate questo tipo di operazione, perché lui conserva il centro originario, può succedere un sacco. Adesso vediamo anche quello. Prima finiamo questa cosa dell'origine. Quando avete il centro tutto separato, invece il centro è di norma, il centro sta al centro, no? Si chiama centro mica per niente. Quindi questo centro scentrato, per fare in modo tale che il suo centro sia il centro dell'oggetto, bisogna andare, mi sembra che sia oggetto, e si dice origine alla geometria. Se si fa origine alla geometria, vedete che quel pallino risulta effettivamente centrato. E il vantaggio è che appunto, visto che quando si orbita, no? Si orbita attorno a quel centro, faccio un esempio, tanto per dire, se io ho il centro e se lo scentro lo metto qua, quindi faccio oggetto origine al cursore 3D, vedete che qui ho questo cubo al centro che gliel'ho scentrato deliberatamente. Se io vado vicino e poi faccio, ah no, funziona. In questo caso l'hanno aggiustato, però in altri casi cerca di girare attorno al centro dell'oggetto. Torniamo all'origine della geometria. Invece, quando per disgrazia avete due pezzi diversi che però in realtà volevate che fossero lo stesso, qualcuno diceva basta selezionarli tutti e due con Shift e poi fate Ctrl J e diventano un pezzo unico. Quindi avete una geometria ottenuta dai due oggetti separati che sono diventati uno solo. e per ultimo dicevo qualcuno citava il proporzionale ma il proporzionale è questo questo e l'ideale sarebbe usare il proporzionale connesso. Proporzionale connesso vuol dire che lui premendo su un tasto col tasto selezionando una certa parte del mio pezzo facendo G vedete che lui cerca di spostare anche i vertici vicini. Aspettate un attimo quindi se aumentate con la rotellina lui cerca di di spostare insomma tutte le cose. Diciamo che però non possiamo rispondere a tutte e tutte tutte le domande magari qualche cosa probabilmente l'hanno fatto la domanda su Facebook nel senso che se a un certo punto uno perde la visuale non trova più il suo oggetto tipo così e non sa più dov'è tipo questo ecco beh allora ci sono qualcuno ha risposto su su Facebook c'era un modo una shortcut che lo faceva non mi ricordo più snap ah shift c sì mi ricordo questa cosa qua shift c ecco facendo shift c vedete che mi ha riportato l'oggetto al centro della cosa però dipende da come l'hai perso insomma cioè per capire anche un attimo tutte le condizioni limiti occorre forse forse avere il vostro punto blend rotto e poi da lì risalire insomma a quello che c'è comunque diciamo che se per caso avete una serie di domande di questo tipo mettetele pure sul Facebook e voi stessi oppure anche Eva o io se ce la facciamo rispondiamo e poi credo che anche Eva come vi ho fatto l'anno scorso se qualcuno di voi vuole avere qualche sessione in cui si vede insieme proprio tipo come stasera le varie cose possiamo organizzarle giusto? infatti se per caso non avete l'oggetto diciamo che siete comunque tipicamente la cosa succede quando avete fatto qualche casino per cui eh 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 sì se io mi allontano consecutivamente in questo caso l'ho perso non ce l'ho però alt C no contro C ma cos'è no funziona eh bisogna ah ho visto adesso un trucchino che può funzionare a Shift C aspetta ma sono anche un pochino dislessico quindi dovremmo ritenere quella situazione strana che abbiamo visto prima poi facciamo Shift C Shift C funziona la griglia diciamo che dipende anche da come lo fate ma ripeto li mettiamo sul sul magari se poi mi date un blender ci ho fatto vedere lo 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 si vede bene adesso di stasera io volevo cominciare invece a vedere anche quelle cose che abbiamo detto sugli alberi e tutto il resto perché se no non sarebbe la seconda lezione sagoma 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 estruse bucate ma prima fare questa cosa qua sagoma estruse quindi facciamo un file nuovo ok partiamo da qua e proviamo a fare una sagomina giusto sagoma quello che avevo indicato l'altra volta per fare la tecnica del del polisterolo come lo chiamano tipo il cavallo perfetto allora facciamo un shift a mettiamo un piano modifica cancelliamo e poi proviamo a fare una qualche cosa così e poi shift questo f poi a f e questo qui è il coso ora cosa intendi per bucare ah vuoi proprio bucare questa cosa qua possiamo effettivamente provare anche a tentare di fare il metodo famoso del coltello come aveva proposto qualcuno cioè se voi volete bucare questa cosa qua potete proprio tagliarla come se aveste una forbice e questo si può fare adesso facciamo A con il comando K K che in inglese vuol dire è l'iniziale di knife knife quindi knife pronunciato quindi a questo punto su questo si può avendo premuto K vedete che compare una specie di taglierino e poi posso fare diciamo una una sequenza di punti e questi sono i per dire questo qui è un foro dopodiché questo se questo fosse un foro che volete bucare lì dentro basta che facciate dunque gli ennagoni non sono un bene ma tenete conto che quando poi li sporta gli ennagoni in realtà poi li trasforma in triangoli quando vengono fatte ci sono un sacco di sistemi e io mi sembra che un anno e mezzo fa ho fatto addirittura un video di otto minuti in cui ho messo i 20 modi per bucare una superficie se volete e poi vi passo il video tanto per dire ma 20 per dire che ce ne possono essere 50 in realtà il metodo il metodo più il metodo più professional sarebbe usando i booleani ma io non vorrei però approfondire darvi troppissime cose già il coltello già il coltello che vi ho fatto vedere stasera è un sistema che ve l'ho detto perché è passato sul sul sito di facebook però adesso provate a fare così quando siete qua se questo buco lo potete anche allineare il buco nel senso che potete selezionare questi vertici e potete fare SY 0 vedete che li allinea quindi l'SY in realtà fa anche un bel po' di cose S Y 0 quindi in questo modo e poi selezionate questo e fate S X 0 so se state più o meno intuendo cosa sto facendo sto allineando i fori perché magari se li volessi così poi se volessi farli proprio un pochino il coltello lo rifacciamo facciamo CTRL Z tanto comunque rimane sulla cosa facciamo CTRL Z supponiamo di avere un profilo che in questo momento vedete che è una cosa bruttina e poi ho detto se vogliamo ritagliare dei pezzi di questa cosa qua come dicevo ci possono essere infiniti modi uno è il coltello viene fatto un po' mano libera nel senso che premo K e poi clicco e seleziono due e seleziono sostanzialmente tutti i pezzi e poi invio che vanno a far parte del buco ad esempio quindi a questo punto se questo deve diventare proprio un buco occorre selezionare questo oggetto cioè la faccia di cui lui fa parte fare X e poi si cancella la faccia e quindi abbiamo questa cosa a questo punto facendo selezionando tutti e estrudendo abbiamo qualche cosa con il con un buco dentro ok poi qualcuno prima diceva che gli ennagoni e con gli ennagoni lo riassumo perché eventualmente non lo sa normalmente le facce sono tutte quadrate o triangolari ma in questo caso vedete che c'è una faccia un po' complicata questa che non ha quattro lati che la circonda ma sono uno due tre quattro cinque sei sette otto quindi queste facce qua i puristi della modellazione non le vogliono tant'è che in blender fino a tre anni fa circa tre quattro anni fa era impossibile farle queste facce cioè blender non le lasciava fare è stata una novità relativamente recente quando quando blender ha consentito di farlo in realtà nel momento in cui ha consentito di farlo secondo me ha fatto un grosso passo avanti perché ha reso possibile la modellazione di cose di questo tipo in maniera un pochino più semplice anche per i principianti no perché sono gli esperti che non sanno anche come costruire i quadrati normali scusate comunque c'è un'opzione da qualche parte che permette di selezionare un oggetto e credo che forse così selezionando tutti i vertici dovrebbe esserci un modo credo che sia triangola facce ecco se si fanno triangola facce vedete che si passa dagli ennagoni famosi che qualcuno diceva che erano male no in questa opzione si ritorna a una versione triangolare fatta per benino quindi non e poi visto che poi magari qualcuno diceva beh ma in realtà io preferisco i quadrati e c'è un'altra opzione che è altj che cerca quando è possibile di ottenere i quadrati quindi per rispondere a Yaya in realtà questo sistema qua anche se inizialmente produce quelle forme che abbiamo visto prima si può passare poi abbastanza rapidamente anche alle cose normali allora se ci siamo passiamo un po' alle cose della seconda settimana quindi alberi cespugli queste cose vediamo un po' quindi intanto ho visto che molti di voi si sono cimentati per quelli che non si sono cimentati ci sono i video che illustrano insomma questa tecnica quindi qua sostanzialmente ne rifaremo volevo chiedere a quelli che l'hanno fatto hanno trovato rispetto a fare i pezzi degli scacchi hanno trovato da parte degli alberi più facili o più difficili? Una domanda più facile ecco più facile allora l'ideale l'ideale io non sono partito subito con gli alberi perché volevo prima darvi le basi quindi con i vertici con le estrusioni con tutte queste cose in modo tale che poi quando facevate gli alberi avreste trovato tutto in teoria avevate già la pratica come state dicendo e avevate già tutti i concetti quindi a quel punto lì con gli alberi ci si può anche divertire e quindi vediamo subito il concetto difficoltà ad erano fra la micosfera allora prendiamo un attimino le facciamo un nuovo ricarica file di avvio e proviamo a fare il un pezzo del pino giusto per vedere quindi il pino vediamo se riusciamo a farlo era fatto semplicemente con il sempre con un cilindro a 8 se non è verrato ok poi qui abbiamo fatto praticamente vedete che poi tende a diventare tutto molto uguale S Z era allungato poi era diviso praticamente sempre la stessa cosa poi tra parentesi non è detto che dovete farlo proprio uguali proprio uguali è come ho fatto a vedere nei video nel senso che potete anche fare un pino anziché con 5 cosi potete anche fare una roba a 3 ad esempio e non cambia nulla in realtà dal punto di vista della cosa ah no aspetta devo fare ctrl Z qui il trucco consisteva nel renderlo conico subito quindi ecco qui ho detto che già mi frega quindi facciamo così B quindi lo rendete conico subito magari anche così quindi qui gli date la forma del pino che volete inizialmente ottenere e poi fate ctrl R 3 per esempio e poi qui c'era il trucco che vedevate che faceva ctrl R per inserire una la fronda e poi S questo qui non so se avete seguito alla fine semplicemente aggiunge un po' di geometria senza aggiungere tanti vertici e la tecnica è sempre la stessa quindi vado qua faccio ctrl R aggiungo un anello poi lo abbasso lo estendo poi ctrl R abbasso l'estendo ecco qui la cosa per ottenere è una cosa non dico armonica ma comunque un po' particolare magari distendere leggermente di più andando verso la base ma lì poi in realtà va anche a gusti cioè non è che ci sia un modo giusto o un modo sbagliato no? ecco e poi lì la cosa che si faceva era di selezionare sempre con l'alt quindi alt e poi shift seleziono tutti questi che abbiamo aggiunto e sempre con 1 si portavano verso il basso praticamente sto ripetendo la cosa che abbiamo visto poi qui sempre con i raggi X più o meno si selezionano tutti i vertici di qua magari usiamo il C che vi ho insegnato quindi pennelliamo questi vertici qua togliamo questo che non c'entra vedete qui sto selezionando tutti i vertici ortogonali qui tra l'altro se non è chiaro si può ingrandire e poi quindi si può selezionare con migliore ok invio così vedete che abbiamo selezionato tutti i vertici i raggi sostanzialmente e poi qua si diceva si fa S Shift Z magari per avere un effetto così e poi il video faceva anche un fenomeno tipo di spostamento per metterli per renderli così ad esempio renderlo ah ecco però qui in alto prima aveva fatto un vabbè qui possiamo anche aggiustare selezionando tutti questi S Z 0 per appiattirli ok e poi magari anche S Z per farlo quindi questo qui è uno degli esempi del tipo quelli del video dunque io questo sto usando una serie di selezioni no adesso più prima se voglio aggiungere seleziono selezioni premo Shift cioè Shift vuol dire aggiungo la selezione quindi per dire se io seleziono con B ad esempio questo ecco con B tra l'altro il vantaggio del B è che man mano che seleziono lui aggiunge aggiunge la selezione se no c'è il C il C che in realtà è anche molto carino perché permette proprio di spennellare e man mano che spennello aggiunge quindi la primissima cosa che abbiamo visto era quindi questo pino in cui giusto per finire il pino abbiamo fatto ancora aggiunto un altro cilindro quindi Shift abbiamo messo un cilindro sempre 8 vediamo dall'alto ok lo cerchiamo di centrarlo S ok poi lo mettiamo verso il basso e magari SZ così abbiamo il tronco e poi abbiamo messo ancora CTRL R e poi si può fare S si può farlo più piccolo o più grosso secondo di quello che si vuole ottenere e abbiamo ottenuto il nostro primo pino poi per il colore a questo punto usiamo la tecnica che abbiamo visto prima quindi selezioniamo tutte le facce del pino dunque che è verde diciamo sopra quindi facciamo L per selezionare tutta la parte della chiamiamola chioma ecco qua avete visto che se non lo vedo premo la rotellina per shiftare questo e poi andiamo e aggiungiamo più poi nuovo seleziono una cosa qui mettiamo il materiale verde verde diffuso verde quindi diventa che diventa tutto verde ma se voglio far diventare marrone il fusto L seleziono facciamo A L e poi qua aggiungiamo un più nuovo e mettiamo marrone mettiamo tipo arancio e poi lo oscuriamo vedete che diventa bel marrone e avendo selezionato solo quello facciamo assegna quindi vedete che abbiamo il nostro pino ok allora rispetto come abbiamo visto nel video qui l'unica cosa che ho fatto di diverso a parte la selezione e che poi ho anche abbassato i raggi laterali che dà un attimo più di movimento e in più poi Facebook ho fatto vedere che se abilitavate la modifica proporzionale poi potevate selezionare qualche cosa del pino e poi con G muovo e quindi potevate per dire rendere il pino ad esempio così può essere un pino che è spostato dal vento insomma che comunque è un pochino più irregolare potete aggiungere toccando dei vertici e poi facendo G lo potete rendere un pochino meno uguale ma lì va proprio molto a gusto e quindi qui ripeto non è che ci sia una cosa giusta o sbagliata qualunque cosa va bene tra l'altro in uno dei post su Facebook avevo fatto vedere che volendo si può fare anche un pino molto low poly questo qua vedete che sono 96 vertici ma se io faccio shift a e introduco un cubo e questo cubo lo faccio SZ lo faccio più o meno alto come il pino che vorrei fare più o meno così e poi vado in modifica potrei semplicemente togliere la selezione disabilità potrei prendere la parte di sopra del cubo e rimpicciolirla eventualmente estendere la parte di sotto quindi siamo partiti sempre da un cubo abbiamo fatto questo e poi qui possiamo anche fare un altro cubo questo lo impiccioliamo lo mettiamo sotto più o meno qua SZ in realtà anche questo in alcuni contesti low poly potrebbe essere accettabile come pino e poi magari lo coloriamo se vogliamo facciamo L A L e qui possiamo aggiungere due slot nel primo slot ricicliamo il verde e nel secondo ricicliamo il marrone avete capito il concetto del una volta che avete fatto un materiale su uno dei vostri oggetti poi dopo tutti gli altri oggetti possono usufruire di questi materiali e poi L marrone assegna e quindi abbiamo anche questa cosa qua allora qual è la differenza fra questo pino e quest'altro pino in termini di di vertici questo pino ha 16 vertici e questo pino qua fatto così ne ha 96 quindi ci sono una differenza di 6-7 volte no? la differenza ovviamente è più bello più carino quello che ha più vertici no? perché allora uno dovrebbe voler fare un pino low poly questo potrebbe capitare quando magari volete fare una scena di una montagna con dentro 200 pini no? 200-300 pini no? se voi se ogni pino che fate sulla montagna ha 96 vertici ovviamente poi diventate fate una cosa molto molto pesante giusto? se invece usate un pino che ha soltanto 16 vertici come vi ho visto prima avete lo stesso una scena low poly e soprattutto questi pini magari sono visti da lontano non è importante che siano perfetti è chiaro questa cosa? dopodiché comunque il fatto di farli in un modo o nell'altro dipende dai vostri gusti su facebook vi ho fatto vedere un esempio di scena low poly dove i pini erano praticamente fatti così eppure davano sembrava cioè l'effetto della scena era molto caruccio non era nefasto adesso salto un po' facciamo la scena dell'albero non lo faccio tutto ma l'albero invece sapete quello invernale eccetera proviamo a rifarlo quindi riportiamo di nuovo da un cilindro quindi alla fine diventa sempre uguale almeno per come lo facciamo adesso diventa uguale mettiamo sempre il cilindro 8 ecco poi prima me l'ho dimenticato visualizziamo i tastini ecco qui il cilindro lo facciamo stesso lavoro di prima S Z e poi cominciamo a fare un lavoro di estrusione quindi selezioniamo alt tasto destro e poi estrudiamo e otteniamo quindi praticamente un tipo tronco che sale che magari man mano che sale si rimpicciolisce con E estrudo guardo in alto tipicamente i tronchi si rimpiccioliscono mentre vanno in alto per dire questo qui è un esempio di quello che potrebbe essere un tronco di partenza e poi eventualmente se vogliamo mettere qualche anello in più facciamo ctrl r e quindi abbiamo degli anelli in più questi anelli in più si mettono solo se sono funzionali per fare della geometria altrimenti è inutile mettere quindi sono funzionali nel senso che mettiamo e facciamo dei piccoli effetti tipo questo oppure come nel caso che vi ho fatto vedere si prendono un tot di questi per dire si prendono questi come abbiamo fatto prenderli quindi si prendevano sei vertici quindi sostanzialmente ho detto si prendono si individua una sorta di cerchio da cui far emergere un altro ramo si prendono i due estremi si allargano un po' da la sensazione della specie di cerchio e poi dopo si fa shift shift tasto destro shift tasto destro shift tasto destro e si sostanzialmente anche questo probabilmente si seleziona quello e poi si estrude per ottenere un ramo guardate e qui probabilmente adesso non viene scusate scusate come ha fatto a prendere i due estremi mi stia domandando ctrl z ctrl z i due estremi ho semplicemente fatto tasto destro questa è la situazione ho fatto questo tasto destro e poi shift tasto destro ho preso i due estremi e poi s li allargati s li allarga una cosa abbastanza semplice ah no però scusate ho fatto un piccolo errore in questa cosa qua perché non c'è bisogno di prendere due facce così lontane basta prenderle vicine questa più questa fare s ecco così viene più più normale vedete in questo modo ho delineato questa specie di esagono poi seleziono con il sempre con lo shift tasto destro e a questo punto faccio l'estrusione e estrudo s rimpicciolisco eventualmente metto un po' più in alto e poi ctrl r metto diciamo un altro anello che gli dà sostanzialmente un po' di geometria e la stessa cosa poi lo faccio da altre parti quindi anche qua scelgo qui faccio s e poi seleziono e metto in alto ctrl r e così riesco a ottenere i vari rami ok se selezionate una faccia si estrude funziona tranquillamente sì certo se faccia così si estrude ottenete una una cosa ancora più low poly però la cosa da dire che facendo in questo modo diventa quindi qui magari sì funzionerebbe anche la cosa è che viene un pochino meno estetico insomma nel senso che c'è meno geometria ma può anche andare bene se a voi vi piace anche fare gli alberi così va bene no diciamo che così vede che ogni ramo è composto da sei vertici quindi da pur avendo relativamente pochi vertici dà l'idea di di una cosa cilindrica invece questa cosa qua fatta soltanto con quattro dà un pochino meno l'idea del cilindrico ecco i cactus stavo pensando anch'io dunque se selezionate due facce ottenete però esattamente quello che ho fatto io infatti io in pratica ho selezionato due facce solo che la tecnica di allargare leggermente i vertici centrali permetteva proprio due facce contigue in modo separato ah sì tu dici c'era un modo adesso non ricordo c'è un modo perché se tu estrude così lo estrude così se invece lo vuoi estrudere lungo le tangenti c'era un modo ma non me lo ricordo c'è non me lo ricordo comunque c'era una possibilità l'avevo trovato eventualmente cerco di ricordarlo comunque la cosa base di tutto ciò è che una volta che avete fatto insomma il vostro alberello e quindi gli avete dato poi eventualmente il colore andate poi ad aggiungere i famosi icosaidri e gli icosaidri sono icosfera scusate non icosaidri fatte delle icosfere ecco le icosfere sono di due tipi o quelle con due suddivisioni oppure quella con una suddivisione la differenza fra l'una e l'altra è che una ha 12 vertici e l'altra ne ha 42 allora se dovete fare cespugli o comunque chiove o altri che abbiano un pochino di fisionomia è meglio averne un pochino più di vertici perché a questo punto prendete questa pallina qua la collocate nel punto che volete tanto non è essenziale che usiate la calamita se non vi viene la fate grandina e poi usate la tecnica della modifica proporzionale che abbiamo visto anche prima per modificarla in modo tale allora magari un po' di più praticamente ci lavorate un po' con la modifica proporzionale in modo tale da ottenere schiacciandola spostandola ottenete delle forme bizzarre due oggetti di file diversi se hai già un oggetto in un altro file si può fare ma non ve lo spiego adesso qua si fa comunque sostanzialmente con forse bisogna farlo ecco collega e incorpora con questi due comandi qua uno si può fare una libreria una libreria di oggetti e poi e poi inserirlo da quelli quindi sostanzialmente alla fine potete sostanzialmente insomma fare tutte le cose di questo tipo quindi questo questo qui può essere alternativamente la chiave di un albero oppure può essere un cespuglio se lo mettete per terra oppure può essere una nuvola se lo mettete in aria e se volete fare dei frutti qua sopra come ho visto come avete visto su facebook è sufficiente che facciate un'altra ecosfera però con una suddivisione in questo modo praticamente piccolina e poi evidentemente gli date il colore che merita e per dire se questo è un albero L lo selezioniamo se gli mettiamo il colore nuovo marrone diffuso ok e poi gli mettiamo un bel rosso e lo assegniamo a questo L assegna quindi quello diventa rosso e poi invece questo lo facciamo ah non era marrone voglio fare marrone questo quindi aggiungiamo il verde nuovo verde ok quindi questo facciamo verde e questo lo facciamo marrone ecco e così poi fate tutto il vostro il fuocarello animato non so se sai come fare lo puoi dire in facebook ho il blender si può fare un sacco di cose bisogna poi vedere se quello che fai si può portare poi su OpenSIM Allora, visto che in OpenSIM il fuoco si fa con delle texture animate, conviene forse farlo ad hoc, nel senso che magari la scena la potete preparare in Blender e poi in OpenSIM gli mettete il fucarello dentro. Esatto, sì sì. Se invece volete fare proprio veramente una scena in Blender, con il fuoco dentro, ci sono delle tecniche che adesso non vi spiego in dettaglio. Allora, sentite, quindi adesso, visto che è già un po' tardi, ci avventuriamo, no infatti, siamo praticamente alla fine. Per chi non ha ancora fatto il Boschetti, io adesso non ho fatto vedere tutti i video dei Boschetti, ma se li vedete dovrebbe essere più abbastanza, non dico semplice, ma insomma si dovrebbe capire cosa si vuole fare. Quindi, entro la settimana prossima, ma al limite diamo anche qualche tempo in più, provate a fare questo compito degli alberelli. E poi, diciamo, per la terza sessione farò poi qualche altro video, fra un paio di settimane, dove pensavo, se vi vivo bene, di farvi vedere come fare sempre in maniera approssimativa, ma comunque interessante anche proprio degli animali, partendo da un disegno, cioè da una foto, animali tipo cani, gatti o cose simili. Quindi, così abbiamo praticamente terminato, insomma, l'esplorazione del mondo minerale, con gli scacchi, che abbiamo fatto delle cose tipo pietra, siamo andati nel mondo vegetale e poi infine arriviamo al mondo animale. Anche qui nel mondo animale faremo una cosa molto, molto, molto semplice, quindi che sarà qualcosina in più delle silhouette che avete già fatto, perché il lupo qualcuno l'ha fatto e l'ha tracopiato con la tecnica del cavallo. Però l'idea è fare qualcosina leggermente più, un pochino meno piatta, ecco, no? Sì, sì, ma tanto anch'io, 11, per me è tardissimo. No, Imprudenza non supporta, non supporta le mesh, quindi direi che non va bene. Le mesh sono proprio ciò che fa Blender. Tanto per dirvi, quando è uscito le mesh su Second Life nel 2011, secondo me è stata una cosa incredibile perché proprio ha consentito di usare Blender per poter fare delle cose di alto livello su Second Life. Nulla vieta di fare delle cose molto belle con i Prim su Second Life, però arrivati a un certo livello usare i Prim diventa molto sofferente. Quindi, non so, ci sono alcuni che pretendono di fare delle cattedrali gotiche con i Prim e le fanno anche bene, ma io non lo consiglierei. Insomma, è proprio veramente masochismo a un certo livello. Ok, allora, se vi va bene, ci incontreremo non la settimana prossima, qui in giovedì, ma magari lasceremo passare una o due settimane, anche tre magari. Adesso vediamo sul calendario. E comunque, parlatevi pure sul gruppo Facebook. Se avete bisogno c'è Eva che vi dà Eva, ma anche voi stessi, insomma, molti di voi sono molto bravi, brave. E che dire, ringrazio molto per tutto lo sforzo che state mettendo in questo corso. è notevole, ho visto qualcuno di voi che lavora stanotte alle quattro ha pubblicato la scacchiera, eccetera. E questa è la cosa importante. Va bene, allora, buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.